Ci segnalano dai territori che le società fornitrici di energia elettrica e gas stanno chiedendo alle imprese delle fideiussioni bancarie costosissime. Questo è gravissimo perché potrebbe portare alla chiusura di moltissime aziende. Ho subito posto la questione sul tavolo del Governo con un'interrogazione parlamentare urgente al Presidente Draghi e al Ministro Cingolani per un intervento immediato a tutela soprattutto delle piccole e medie imprese che altrimenti rischiano di chiudere i battenti e questo non possiamo permetterlo.